E' stato un'ottima partita contro un'ottima squadra che ha grandi qualità, abbiamo concesso poco, gli episodi sono andati a nostro sfavore, però abbiamo dato tutto in campo come quello che c'era di essere un mister, era il primo caldo e non era facile perché ci sono spazi di temperatura che ti ammazzano, però abbiamo fatto un'ottima partita e cerchiamo di fare il prima possibile questi 3-4 punti che ci mancano. Sicuramente sono tre partite difficili, però noi contro le grandi penso che facciamo sempre una buona partita, gli episodi sono andati a nostro sfavore, potrebbe essere la prossima con un tiro noi riusciamo a vincere e riusciamo a fare quelli tre punti importanti, se dietro vincono noi non li guardiamo, la passiva non la guardiamo perché sappiamo che dobbiamo fare quei 3-4 punti, al di là se dietro il verde non vincono, non ci interessa, poi prima li faremo meglio. Dobbiamo allungare un po' i pali e le traverse, purtroppo quando uno calcia penso che cerca di fare gol, la mela ha calciato da 25 metri e la palla è girata all'incrocio dei pali, Cerci una volta ha preso il pallo, la seconda volta ha preso la traversa, Rolli stava calciando a botta sicura, quello che ha toccato di punta e sono episodi nel calcio purtroppo e ormai si è equilibrato tutto, sono gli episodi che fanno la differenza. Sì sicuramente, è una posizione dove ho giocato tanti anni e tornare là ho cercato di dare il massimo per la squadra e cercando di dare una mano ai miei compagni per riuscire noi, volevamo fare risultato a tutti i costi per toglierci una bella soddisfazione, però la faremo la prossima volta.